Il 12 aprile è la giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio, nell'anniversario della missione del russo Yuri Gagarin nel 1961 con la Vostok 1. Proprio per questa occasione l'artista Ivano Parolini della Valle Seriana ha voluto realizzare un nuovo progetto. Com'è nata questa installazione, questo site specific? Ma questa installazione è nata quando ad Artunite a Bergamo ho realizzato oltre un'installazione sulle dipendenze per Artunite la notte dell'arte a Bergamo. Quando ero sul ponteggio di circa 6-7 metri a smontare questa installazione ho questa sensazione di essere a quell'altezza e vedere le persone dall'alto verso il basso così l'ho messa come appunto di inserirla in una prossima installazione. Poi riflettendo su cosa avrei potuto fare è venuto in mente di fare inserire come figura il soggetto, un astronauta. E poi l'ho immaginato un po' onirico questo astronauta che avesse appunto delle radici. Queste radici hanno un significato, diciamo, servono a puntare l'attenzione anche sul fatto della persona, l'uomo, da dove parte. Sul suo bagaglio culturale, da quello che è l'uomo e il rispetto con l'ambiente. usare queste energie della Terra con consapevolezza, dall'aria, l'acqua, la terra e il fuoco e anche riciclarle in maniera appunto consapevole. E poi unito praticamente a questa tuta spaziale, i materiali, la tecnologia degli astronauti e così sono diciamo l'eccellenza per andare nello spazio e scoprire l'ignoto. E quindi unendo appunto le radici da dove partiamo a questa tecnologia del futuro si va verso una scoperta dell'uomo, dell'ignoto. E diciamo in questa installazione questo astronauta va anche alla ricerca di queste sfere luminose che sono un po' metafora degli obiettivi che ogni persona ha, dei propri sogni, dei propri ideali, obiettivi da raggiungere e quindi questo impatto di questo size specific è appunto questa ricerca. E sono arrivati anche i complimenti di Franco Ongaro, ex direttore dell'ente spaziale europeo, ora direttore di Leonardo Bergamasco, d'origine. Complimenti sia per l'idea ma anche per la scelta di realizzare la tuta con materiali di recupero. Sì, questa tuta l'ho realizzata praticamente con materiali tutti di recupero, di riciclo, per sottolineare appunto questo rispetto per l'ambiente. Ad esempio questa pettorina, chiamiamola così, l'ho realizzata un appendi a cravate, con inserito queste luci da biciclette, qualcosa del genere. Mentre i tubi, questi qua sono della doccia, con le baionette, qui sono delle canne dell'acqua praticamente. Oppure, queste qui sono delle ghiere che misurano, che ho preso di riciclo, oppure lo zaino, un vecchio zaino, l'ho ridipinto, l'ho diciamo sistemato ad hoc, che sembrasse un vero astronauta, a primo occhito diciamo. E le radici? Le radici invece sono rami che poi li ho colorati, li ho capovolti, però danno l'effetto diciamo delle radici praticamente. Dipingendoli di bianco, li ho decontestualizzati dalla loro funzionalità, però li ho rese più spaziali diciamo.